Spesso si è colpiti. Perché ci si ammala? Commento. Non ci si ammala a caso. La malattia che è una limitazione fisica esprime una limitazione spirituale. Spesso si è colpiti dal cancro all'apparato digerente perché si è data troppa importanza al cibo. Per importanza le guide intendono che si è molto amato o anche odiato intimamente il cibo.